buongiorno ragazzi allora ci siamo ho definito tutto quello che riguarda portabottiglie ci siamo lasciati ieri dove valutavo se avanzare le pareti e ridurre il gradino e fare un piano più stretto ho fatto dei ragionamenti riguardo anche lo spazio cioè guardando fisicamente lo spazio dello sgabuzzino perché è la cosa prioritaria e dopo vi aggiorno un po su quello che ho deciso da far di fare oggi però portabottiglie portabottiglie che è stato un po un casino fare perché sono vincolato da più cose prima cosa vincolato dalla misura totale del portabottiglie che deve avere seconda cosa della misura misura esterna seconda cosa dalla misura interna e dal fatto che comunque i cilindri si devono incastrare terza cosa dal fatto che devo fare il frontale in legno con tutti i cerchi ricavati tutti i fori fatti e ci deve essere abbastanza ciccia e carne tra i fori tra di loro qualcuno di voi mi ha consigliato nanziché fare i fori rotondi di fare dei fori esagonali no perché in questo caso non è che non state ragionando quadrimessualmente non state ragionando proprio geometricamente se dovessi fare dei fori esagonali dovrei iscriverli nel cerchio di 11 del cerchio da 11 del cilindro e quindi verrebbe troppo piccolo verrebbe in pratica uno spazio utile della larghezza dell'esagono di 6 centimetri e ci stanno poche bottiglie di vino di acqua e non bottiglie più grandi quindi no procederò così ho preso i due pannelli dal furgone sono 90 per due metri direi che questo è vero vero scarto vero vero schifo però da questo ricaverò il mobiletto a fianco ha uno spessore diverso perché anziché essere 17 come quello del freezer è da 20 quindi molto rapidamente vado a iniziare questo vado a iniziare questo oggi arriverò secondo me a una definizione della forma totale e dei l'inserimento dei cilindri poi vorrei rivalutare la questione di illuminazione per farla meglio per farla più performante o per non farla proprio o comunque non mi non mi dava soddisfazione quei led di ho usato il led di scarto illuminavano poco dove c'era la presenza di bottiglie scure ho individuato un altro paio di soluzioni ma sono tutte molto costose troppo costose perché alla fine porta bottiglie non saranno più 30 come prima ma saranno 25 comunque sono 50 bottiglie quindi basta avanza parto subito a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è il punto. Questo è il punto in cui è il mobile. Ora, come vi dicevo, io avevo bisogno che la misura esterna fosse una misura ben precisa per lasciare il modulo 24 lì per non iniziare col pannello in modo che il pannello avere proprio di legno fili poi con i listelli sopra. Quindi di lì ci voleva 24. Però avevo bisogno che questi qua si incastrassero per stare fermi. Quindi ho dovuto aggiungere questo spessorino qua interno. Poi il pannello davanti forato a sua volta avrà dei fori più piccoli dei cilindri stessi. Cioè i cilindri internamente sono da 11, il foro sarà da 10. tale da lasciare un po' più di ciccia di legno qua in mezzo. Ora dovrei andare all'illuminazione. L'illuminazione partendo dal presupposto che non mi soddisfa quella che ho fatto perché illumina veramente poco. Avevo pensato di usare dei faretti, dei faretti a led dietro anziché fissati su un pannello fissati semplicemente su un tappo, un tappo che poi andava a riempire il cilindro nella parte posteriore perché tanto poi contro dietro poi c'è tutto lo spazio. Però 25 faretti costano una madonna. Allora perché il mio problema cos'è? I led che gli ho messo, che ho messo con una striscia centrale, illumina il centro. Quando c'è la bottiglia non illumina. Quindi avrei bisogno di un'illuminazione ad anello che segue più o meno tutto il profilo del cilindro dall'altra parte, a meno che il radioluce intorno alla bottiglia. Allora ho pensato di usare quei led montati su un anello. Ce ne sono anche della misura giusta, ma anche quelli costano una madonna. La cosa che costa ancora meno è una striscia led da tagliare e posizionare. Ma non so come sia possibile posizionarla in forma circolare perché o la metto in forma circolare ma dal fianco e quindi poi illumina verso l'interno o di sicuro non riesco a metterla a forma circolare sul piatto. Quindi non so. Potrei comprare una striscia led e tagliarla tutta a pezzettini quelle strisce che magari si dividono ogni tre, non ogni due e poi fare sul cerchio del tappo dietro fare una forma che segua il più possibile il cerchio. Non lo so. Dovrei comunque andare al Bricomene a dare un'occhiata. Ci sono faretti economici perché 25 sono veramente tanti. Intanto vi spiego la questione del perché farò il gradino sopra qua e perché farò il piano profondo anziché il piano ridotto come vi ho fatto vedere ieri. Però per spiegarvelo dobbiamo andare nello sgabuzzino. Allora, quello che voi vedete è una prospettiva falsatissima. Lo sgabuzzino è molto stretto, poco profondo e molto alto. Contrariamente a quanto vi ho fatto vedere nel disegno il fianco non si vede mai di questo mobile per cui vedrete solo il piatto. Vedendo solo il piatto e volendo venire avanti con la parete che copre il contatore diciamo qua proprio non c'è modo che ve lo faccia vedere. Quando entrate nella porta vi ritrovate una parete dritta praticamente in faccia. Cioè lo sgabuzzino finisce subito. E soprattutto altissima e troppo addosso a dove siete per essere apprezzabile. Viceversa facendo l'arretrata con un gradino a quell'altezza e poi che venga giù e venga invece più avanti sembra proprio una parete con una schivania e un pensile alto là. Un pensile che arriva comunque fino a soffitto. Questo dà dinamicità per così alla parete che è quello che ha bisogno. Questo spazio ha bisogno di essere non chiuso ulteriormente ma in realtà un po' allungato. Sto valutando ancora di togliere la porta in modo tale che l'effetto sia quello dell'imbotto escluso anche l'infisso. Quindi via l'infisso, porta più larga e si vede tutta quella roba lì una volta che l'anta della porta scorre verso l'esterno. Cioè scorre da questo lato. Non con uno di quei sistemi a vista. Quindi la porta, se lo faccio la porta sarà una cosa particolare sarà una cosa più artistica come è stata quella della camera piuttosto che tecnica. Sto valutando di fare una roba ma devo prima capire bene e poi ovviamente la guida non deve essere vista cioè non si deve vedere al di là della porta se no il gioco non viene. Questa roba deve essere come se ci fosse un quadro un pannello o qualcosa non voglio usare ancora uno specchio che scorra via e mostri lo spazio interno. Per cui assolutamente col gradino esattamente sotto il il gabbiotto lì. Sotto lì perché? Perché è l'unico punto in cui io posso mettere una mensola in avanti non fissata al muro dietro cioè fissata a parete a parete che non dia fastidio a niente lì perché se la metto qua non riesco a togliere la canalina se la metto più bassa non riesco a aprire questa se la metto più alta non apro quello se la faccio passare lì in mezzo la tengo davanti la canalina la apro lo stesso perché si sgancia e quindi quello è una roba obbligata non c'è modulo è una roba obbligata fratto non so se vedete che quella fare lì è attaccato pure storto. ora vedo cosa fare vedo se andare al brickman a fare scouting oppure oppure niente non è che io possa fare nient'altro perché non posso costruire nel pannello che porterà i listelli perché non ce l'ho e a tal proposito adesso vi condivido un pensiero così mi dite la vostra perché io ho ancora parecchi dubbi in merito oppure no mi sa che andrò al brickman vi dico sta roba e poi vado al brickman allora il dubbio non è singolo ma il dubbio è duplice allora primo dubbio io ho disegnato dietro qua i listelli appoggiati su delle ante bianche ok i listelli sono tipo questo 24x24 di faggio ok proprio faux pas de reddy style volendo mettere dietro il bianco io sarei propenso a prendere un melaminico già fatto così almeno è trattato bene il bianco su cui puoi applicare l'istello però gli listelli vanno messi uno sì uno no adesso prendo un altro listello ok gli listelli saranno un modulo sì un modulo no adesso il secondo non ha l'altezza giusta io li ho comprati 24x24 per economia però in realtà non so se li farò più bassi più stretti sicuramente no non so se li farò più bassi più bassi di 24 il modulo però è uno sì uno no 24 questo assolutamente è obbligatorio per comunizzare le cose dicevo il bianco compro un melaminico o è molto più bello avere un una parte una parte dipinta con questo effetto è vero che alla vista non cambia praticamente niente il piano invece sarà bianco ma molto ovviamente dipinto non melaminico si cambia poco questo dubbio qua non c'è adesso che lo vedo tanto vale prendere direttamente un melaminico se lo faccio bianco però stavo valutando anche l'idea di fare gli spazi che qua non si vedono per la questione della serometria non bianchi ma di un altro colore cioè anziché mandare tutto nel chiaro mandare tutto nello scuro il colore potrebbe anche essere questo con poi circa questo effetto qua finale che secondo me è molto molto elegante sono in dubbio semplicemente se è il bianco o questo perché io di questo colore ne ho ancora tantissimo in quel caso dovrei compare l'MDF non il melaminico è una questione di percezione all'interno dello sgabuzzino che è tutto bianco se lasciare quello bianco dove vive il legno o connotare tutta quella parete lì sinceramente ho proprio questo dubbio qua se è bianco o quel colore lì non lo so per risolvere la questione delle luci magari adesso che sono faccio un caffè e vado albericomene a fare un po' di scouting magari ci sono delle luci economico mal che vada compro un'altra striscia led e cerco di distribuirla meglio all'interno dei cerchi siccome qualcuno lo chiederà lì sotto potrebbe anche esserci un cassettino lo trovo abbastanza inutile preferisco avere l'antentiera con il margine basso però potrebbe esserci un cassettino ok dovrei esserci prima però un paio di considerazioni dovrei esserci se ho trovato e preso la soluzione in realtà non l'ho trovata io me l'ha suggerita uno di voi io semplicemente ho fatto tutti i conti del caso che adesso vi racconto e ho preso la mia decisione le considerazioni partiamo dal fondo a tantissimi piace io ho già perso i listelli ok su fondo scuro piace molto anche a me da valutare la luminosità della stanza e soprattutto la proporzione del listello perché io ho comprato un 24x24 che è circa questo ma non penso di lasciarlo 24x24 perché è troppo profondo magari farò un 24x12 modulo da uno e mezzo intervallato 1 e 1 così almeno che venga un po' più giù mi piace davvero tanto questo colore seconda considerazione in 3 o 4 mi avete chiesto cosa pensa Anna di questo rifacimento sinceramente Anna non sa un cazzo Anna è rimasta al mobile di prima è rimasto che le piaceva l'idea di averlo tutto bianco le piaceva l'idea che dentro fosse lo scabuzzino in realtà una bolla bianca che si annullasse che la porta è convinta rimanga quella non sa proprio niente Anna non è stata messa a corrente perché sta tornando tardi in queste sere mangiamo tardi e poi non parliamo certo di queste robe qua quindi e non saprà niente fino alla fine vi farò la reaction quando apre anzi quando scorre la porta o entra in casa si trova una porta a scorrimento non sa nulla alta considerazione sulle luci in tantissimi veramente in tantissimi avete suggerito tutti la stessa cosa perché non prendi la striscia di led e la metti nella parte alta del tubo così che illumini dall'alto le bottiglie in realtà non è l'effetto voluto come non dà l'effetto voluto l'altro suggerimento quello di mettere i led intorno alla parte frontale qua che tanto poi essendoci il pannello e il buco più piccolo illuminano il collo della bottiglia non è quello che voglio provo a farvi un disegnino anche se disegnare la luce non è popolare dell'effetto che voglio ottenere sapete che è una roba inutile ma quando mi fisso mi fisso io l'effetto che voglio ottenere è che visto dal fianco dal tubo che diciamo essere questo difficile disegnare guardando il cellulare la fonte luminosa sia qua in modo tale che con la giusta angolazione irradi tutto di luce arrivi fino in fondo e poi siccome qua il buco poi è più piccolo faccia tubo di luce o al massimo così questa è l'idea così che il collo della bottiglia che sporge da qua sporgerà ovviamente meno di così sia tutto circondato in luce che poi non sarà mai tutto perché di fatto poi la bottiglia appoggia comunque sotto o comunque faccia cono di luce così allora data la lunghezza dei tubi ho bisogno una luce e la luminosità dello sgabuzzino serve una luce bella bella potente la soluzione me la suggerisce uno di voi abbiamo valutato assieme i faretti abbiamo valutato assieme i led io ho fatto un pro e contro dei pre e soprattutto del lavoro che ci stava dietro nel fare tutto con i led perché se io avessi preso i led anche quelli pieghevoli quelli che sono tutti zigrinati per intenderci li avessi messo a cerchio sarebbe stato un lavoro di saldatura mostruoso che non avevo voglia di affrontare se avessi preso i faretti avrei speso troppo allora ho preso una via di mezzo uno di voi mi ha segnato le lampadine con attacco già me lo dimentico GU10 un po' dopo non trovo più il tuo messaggio sennò ti citerei quindi ho preso le lampadine luce calda e i vari attacchi da collegare direttamente alla 220 adesso un po' pochi un attimo vi faccio vedere l'accrocchio finale è praticamente quindi c'è la lampadina le lampadine sono luce calda e sono da 6 watt luna 470 lume che secondo me abbondano dentro il tubo ma una prova la faccio subito si attacca si attacca direttamente la 220 perché tutto rimane contenuto in questo spessore che adesso andrò a capire come fissare al fondo dei tubi se con un tappo in fondo al tubo o un pannello intero anche se già prevedo il tappo rimarrà praticamente qua tanto io dietro il mobile in realtà qua ho tutto lo spessore che voglio perché c'è tutto lo spessore che voglio dietro qua rimarrà perfettamente al centro in teoria dovrebbe fare luce col fatto che è tappato anche qua la luce non può tornare indietro ma procedere avanti il tubo poi ma mi riservo di valutarlo una volta che sul frontale vedo effettivamente cosa si vede che almeno la parte iniziale vada spruzzata almeno un po' di nero quindi questo è la soluzione finale ora c'è da realizzare il tappo anzi dato che ho sempre il mio fidato cavo volante con un borsetto rapido faccio subito una prova a vedere quanta luce effettivamente fa ok so che così non vuol dire niente però secondo me con questa fonte luminosa così al di qua del tubo ci arriva adesso il cavo è corto non riesco a portarlo là impappocchio il primo vedo di metterlo assieme così almeno facciamo anzi tiro fuori una prolunga e faccio una prova subito considerando che sono in condizione di luce veramente estrema in questo momento ok dovrei averci preso considerato che la luce adesso non è piazzata giusta perché è appoggiata sul fondo e non è centrale questo è l'effetto che deve venire considerando di mettere dentro una bottiglia anche scura lo vediamo in diretta così la figura di merda è assicurata ecco una volta che la luce dietro sarà centrata e non brutalmente appoggiata dentro e tutto sarà più buio questo è l'effetto sarà migliore di così comunque ci sono questa è l'idea posso pensare a chi mi ha posto problemi di scaldamento cioè il fatto che qualsiasi luce ha led o non ha led scaldi lì dietro le bottiglie le bottiglie ripeto per la milionesima volta che le luci non rimangono accese le luci rimangono accese giusto il tempo che si è all'interno dello sgabuzzino per scegliere una bottiglia e l'effetto è ancora più bello con la bottiglia trasparente dovrò scomodare la CNC per il tappo lo so già allora mi appresto a fare il primo tappo giusto per capire i dimensionamenti alla fine tra pannello intero e tappo preferite fare il tappo sul fondo così almeno poi i tubi sono svincolati e posso mettere dentro uno alle tre persone che mi hanno chiesto cosa faccio nel caso si fulmino la lampadina che devo smontare tutto e a chi invece mi ha detto che basta togliere il tappo per cambiare la lampadina si fulmina mi tocca dirvi se lo trovo non stai ragionando il suono è singolare ma vale lo stesso se si fulmina la lampadina semmai si dovesse fulminare ma sicuramente non si può rompere andando contro le bottiglie perché non è una lampadina di vetro basta fare la mossa del proctologo dentro il braccio togli la lampadina e rimetti quella nuova non è difficile proctologo non c'è bisogno di complicare sempre tutto c'è l'accesso dal davanti primo fatto devo dire ok ecco qua l'effetto della bottiglia e la luce è perfettamente centrata e uniforme sul fondo da dietro non sporge praticamente niente è praticamente in linea col mobile sporge un po' ma io qua ho ancora tanto spazio ripeto ora non resta che fare altri 24 fatevi un giro che ne faccio 24 non resta che ne faccio che lavoro divertente a parte essermi verciato tutto lavoro in serie sempre divertenti non so cosa mi ricorda vabbè ora sto valutando il retro se gira in modo tale che questi listelli capitino siano più sottili ce ne siano di più e mi fermino i tubi da arretrare perché quelli al 100 per esempio arretrano infatti provvisoriamente ma contemporaneamente non mi non mi blocchino le prese dietro e poi valutavo l'idea suggerita da più di uno di voi di dipingere di bianco all'interno del tubo però la questione cos'è dipingere di bianco l'interno del tubo posso farlo a bomboletta e arrivare fino a un certo punto non certo tutto tutto è praticamente impossibile dovrei prendere una spugna da dentro col braccio un bordello non so che reale vantaggio apporta a livello di diffusione luce mi sa che devo dipingere di bianco perché a livello di luce verrebbe dipinto sul primo pezzo certo a livello di vista sì perché quando si è in questa posizione qui così si vedrebbe all'interno del buco quindi davanti faggio poi il bianco o quel colore lì a seconda di cosa si sceglie e poi bianco ancora mi sa che devo farlo sperando di avere la bomboletta per dipingerlo di bianco perché ce ne ho una ma secondo me mezza e questi sono tanti sono tanti però c'è c'è sta andando assieme adesso è più corretto sono ancora indeciso se sotto la cassetto ricavato sempre da quel cassetto lì che fa altro mi sa che la misura del pannello che c'è di più sempre smontando quello ricando qua perché usando poi le guide da 60 perché queste guide qua in realtà oggi le ho ordinate altre due da 65 quindi i cani hanno dato l'allarme così motivatamente c'era un altro cane che passava davanti al giardino allora dicevo coordinato le guide da 65 perché sono stato un tonno nel senso io questa era 60 ce l'avevo e va bene così e il mio freezer si apre senza problemi peccato che cosa non ho considerato che in questo pannello frontale c'era il pannello più lo spessore dei listelli che deve andare contro qua quindi il top deve sporgere del pannello dei listelli per far sì che quando sia chiuso il top sia la cosa che sporge di più morale della favola una volta che apro tutto io qua ho lo spessore e devo poter aprire questo quindi non avevo ragionato di profondità non quasi personalmente di profondità quindi ho ordinato due guide da 65 dipingo questi infatti dovrebbe anche arrivare al giardiniere tra un po' giardiniere che non viene a tagliare le erba ma viene semplicemente a vedere il lavoro di merda che ha fatto l'anno scorso perché l'anno scorso ho speso 1600 euro per far mettere giù il telo sotto la ghiaia per far sì che non crescano le erbacce e lui mi ha detto ma sì si può fare ne verranno fuori il 10% però se usiamo il diserbante non ne viene fuori neanche un po' Anna ha i cani se non voglio diserbare i cani ho detto mi accontento del 10% praticamente non si vede più la ghiaia ci sono più erbacce che altro sembra un campo di calcio quindi adesso viene e mi dice che cazzo era quel 10% e se deve rifare il lavoro rifà il lavoro detto questo caffè inizio ad essere un po' stanchino però oggi abbiamo prodotto dai tra oggi e ieri qualcosa abbiamo prodotto sta andando assieme molto contento delle lampadine qualcuno mi ha consigliato giustamente di mettere un fermo nel tubo alle bottiglie per non far andare le bottiglie contro le lampadine non tanto per un questione di rompere le lampadine che non si può vede ma quanto per diffondere meglio la luce e lasciare uno stacco tanto si può fare un pezzettino di legno qualcuno mi chiede più info sulle erbacce e ve le faccio vedere perché il 10% ne rimarrà se non il 10% ecco 10% io direi che manca il 10% delle erbacce bella che ha fatto un lavoro così ficcante che se le togli crescono cioè guarda il telo per me io gli ho detto ma il telo non deve essere nero per bloccare la luce no no è giusto questo telo qua sì sì il cazzo albi io lo so che tu vedrai la foto del prato o meglio della ghiaia e dell'erbacce e riderai di me perché tu sei l'unico giardiniere che non vuole venire a tagliare che conosco e non vuole venire a tagliarmi l'erba quindi non riesco detto questo vi racconto un aneddoto mentre bevo un caffè con la tazza della che cazzo è? sempre roba di cani l'aneddoto è che l'altro giorno ero fuori con il mio amico Perego a bere una birra e mi lamentavo di quanto mi rompesse il coglione di tagliare l'erba tutte le domeniche soprattutto in questa stagione che devo tagliarla tutte le domeniche se non la taglio tutte le domeniche il mio padre sopra la taserba non ce la fa ed eravamo seduti qua al bar fuori a 200 metri perché poi non è che il paese sia grande quindi ci sono due bar ma andiamo sempre a questo qua e lui mi guarda e fa scusa ma chiedi a loro e mi indica un negozio dall'altra parte della strada che è un ufficio di giardiniere lì davanti a noi qua due civici più avanti a me questo per farvi capire quanto conosco la zona in cui mi sono trasferito che sono tipo 10 case a dire tanto c'è un coso dei giardinieri proprio lì e non sono ancora andato a chiedere quanto mi costa il taglio dell'erba ma se riesco appalto il lavoro diamo un po' di lavoro in Italia e io mi evito la rotura di palle così sto di più in laboratorio anche di domenica allora tutte le questioni sono risolte o meglio cani pisciati e giardinieri andati dei giardinieri vi racconto un'altra volta magari perché adesso ho le palle girate vi dico solo che come un classico in Italia l'assunzione di responsabilità non esiste e la frase ho sbagliato non la pronuncia nessuno quindi ho le palle girate è un lavoro che dovrò fare io e me ne occuperò io e lo rifarò quando farò un po' più fresco detto questo torniamo al mobile portabottiglie freezer cantinetta cabinato anni 80 perché alla fine avete detto tutti che siamo un cabinato anni 80 ed è vero con quelli stelle lì sembra un cabinato anni 80 una mica una roba del genere e non mi dispiace devo essere sincero ultima cosa che voglio fare prima di staccare anche perché sono già le 8 così asciugano in tempo una spruzzata di bianco almeno all'invito dei tubi alla prima parte dentro i tubi all'invito dei tubi ok allora che profumo qua dentro anche questa è fatta così possono asciugare in attesa che io torni di qua a fare il lavoro prossimo giro cos'è prossimo giro secondo me è mettere le ante a questi iniziare a strutturare la mensola di là per fare il gradino alto e tagliare le ante la alla fine conviene fare tutto mdf cosa almeno poi posso scegliere all'ultimo come dipingerlo e siccome ho del faggio direi che posso fare due prove tagliando i listelli così capisco proporzione tra base altezza degli stelle il distanziamento abbiamo già detto che quello che è e se farli su bianco o su quel colore lì anche se in realtà quel colore lì che poi è questo quando ho visto oggi la copiata faggio più questo tanta roba per quanto il colore scuro potrebbe chiudere un pelino di più la stanza dato che tanto rimango arretrato e faccio il gradino potrei guadagnare in eleganza e efficienza lo scapuzzino più elegante d'italia senza poi avere il problema che rimane troppo chiuso sapete una cosa sapete cosa mi rompe fortemente i coglioni ora adesso che il portabottiglie è giusto ha la dimensione giusta il giusto numero di bottiglie le luci nel modo giusto il pannello davanti il legno mi rompe proprio i coglioni che non si è refrigerato la vedo dura però fare una cantinetta custom non è proprio una roba facile per quanto io sotto lì potrei avere spazio per il compressore dietro c'è sufficiente spazio per una serpentina quasi quasi prendo uno di quei frigo che ti regalano su facebook regalo frigo di mia nonna dell'anteguera lo smantello e lo adatto sarebbe troppo anche per me vado non correrò fino allo in fondo vado a farmi una birra se ci vediamo ci vediamo ciao 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 ciao